Siamo in compagnia del dottor Sergio Malara, assessore alle politiche sociali e per la famiglia del comune di Bova Marina. Questo pomeriggio a Bova Marina, nella sala IRSEC, verrà presentato un convegno. La famiglia è risorsa per la società e all'interno di questo convegno, al quale sono invitati illustri i relatori, verrà presentata la Family Card. Ci vuole raccontare di cosa si tratta e come nasce questo progetto, assessore? Sì, intanto abbiamo dato la denominazione di Bova Marina, amica delle famiglie, Bova Marina Family Card. La Family Card è uno strumento usato in molte città del nord per dare delle agevolazioni alle famiglie numerose. In pratica il comune ha fatto aderire un bel po' di esercizi commerciali, di operatori, di professionisti, i quali hanno garantito, attraverso una convenzione firmata, degli sconti che vanno dal 10 al 30% alle famiglie che hanno diritto con la Card, poiché hanno diritto alle famiglie che hanno un reddito inferiore ai 10.000 di ISE. Funziona in pratica famiglie in Bova Marina che facendo un conto in linea di massima che hanno diritto saranno una quarantina di famiglie. In pratica in un anno, perché è un progetto sperimentale per un anno, vi saranno 40 famiglie che potranno fare la spesa al supermercato, potranno andare dal dentista, potranno andare dal meccanico, dal gommista, al cinema, anche alcune associazioni hanno diritto garantendo un 10-15% di sconto. Quindi è un progetto cofinanziato sia dall'amministrazione comunale e dai privati oppure soltanto dai privati? No, il Comune per i noti motivi di ristrettezza economica non ha potuto mettere alcuna parte economica. Il Comune ha fatto soltanto da coadutore, da organizzatore dell'iniziativa e per questo noi ringraziamo sicuramente tutti gli operatori che hanno aderito alla Convenzione. Quando parliamo di famiglie numerose, parliamo di quanti figli ha famiglia, assessore? Sì, allora il progetto per quest'anno prevede le famiglie con tre o più figli. Se il progetto, come pensiamo noi, avrà successo, allargheremo, stenderemo i vantaggi della Family Card, delle famiglie con due figli sotto sempre un certo reddito che in Bova Marina sono circa 250. Poi andando a scendere sul reddito arriveremo a 120-130. Ecco, quindi il discorso sarà... Devo precisare un'altra cosa, che il progetto prevede chiaramente anche un vantaggio per gli operatori economici perché un po' la spesa rimarrà a livello locale. È molto interessante anche perché nell'ambito del nostro comune nel giro di 10-15 anni sono perse almeno un migliaio di persone, vuoi per una riduzione demografica, vuoi anche per un ritorno di emigrazione all'estero oppure nell'ambito del territorio nazionale. Sì, oltre alle persone c'è stata una diminuzione di circa 600-700 persone rispetto ai 5.000 che avevamo. E' stata una notevole chiusura di esercizi commerciali. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è di far camminare parallelamente famiglie e imprese in modo che il tessuto economico possa reggere l'intera comunità. Molte grazie, Assessore.